Questa mattina i carabinieri del comando provinciale di Napoli hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere messa su richiesta della direzione distrettuale antimafia di Napoli dall'ufficio GIP del Tribunale di Napoli nei confronti di tre soggetti riconducibili al gruppo terracciano e gravemente indiziati a vario titolo dei reati di tentato omicidio e porto in luogo pubblico di armi, tutti aggravati dalle finalità mafiose, per aver pianificato ed eseguito il tentato omicidio di Piscopo Umberto, all'epoca dei fatti reggente del clan rivale Piscopo Ponticelli, operante dei comuni di Massa di Somma e San Sebastiano al Vesuvio. I fatti risalgono al 3 maggio 2018, quando a Massa di Somma, nei pressi del portone dell'abitazione di Piscopo Umberto, un commando aveva esploso numerosi colpi di pistola calibro 7,65, diretti inequivocabilmente ad uccidere il Piscopo. L'attività investigativa condotta dai carabinieri in nucleo investigativo di Toranoziate della tenenza di Cercola e diretta dalla Procura della Repubblica di Napoli, DDA, è stata sviluppata con intercettazioni telefoniche ed ambientali e suffragata da dichiarazioni rese da persone informate sui fatti, da un collaboratore di giustizia e da uno dei soggetti oggi destinatari di misura cautelare in sede di spontanee dichiarazioni al PM, nonché da riconoscimenti fotografici di esecutori e mandanti. Il complesso delle attività di indagine ha consentito di individuare per ciascuno dei tre indagati il contributo causale ed effettivo nella realizzazione dell'agguato. Grazie